Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi voglio presentarvi la ROM Sianfox versione 2.0.2 basata su Android 4.4.2 KitKat. Vediamo per prima cosa le impostazioni per la personalizzazione. Sono presenti due voci, interfaccia e dark UI. Il secondo è semplicemente un tema scuro attivabile direttamente senza quindi passare per il time chooser. Nella prima troveremo invece parecchie opzioni per personalizzare appunto l'interfaccia. Ci saranno delle impostazioni per la barra di stato, quindi potremo scegliere se mostrare l'orologio, lo stile dell'indicatore del segnale, della batteria, eccetera. Potremo impostare il pannello con le impostazioni rapide, ovvero il menu a tendina con i toggle, il menu delle notifiche, scegliendo se avere anche qui degli strumenti, la schermata di sblocco, scegliendo per esempio quali scorciatoie mostrare nell'anello. Potremo decidere di abilitare il desktop esteso, nascondendo quindi la status bar e la barra di navigazione. Infine avremo delle opzioni extra per Halo, ovvero il sistema di notifiche della Paranoid Android, che è attivo e perfettamente funzionante, per la RAM Bar, che è visualizzabile tenendo premuto a lungo il tasto Home e attivando quindi il menu per chiudere le applicazioni, e la potete vedere qui in alto, e per i temi, e questo è il classico time chooser. Per quanto riguarda le altre impostazioni sono quelle classiche di Android ed è presente anche la modalità di screen recording. Infine, nelle opzioni sviluppatore, potremo selezionare la runtime Art, che è perfettamente funzionante. Ok, per quanto riguarda il launcher di default è il Google Home, ovvero quello classico di Android 4.4 KitKat con Google Now integrato, e le applicazioni di sistema sono Google Chrome, DSP Manager, cioè un'applicazione per il suono, un'app per le email, il file manager classico di SianoGenMod, Hangout, le impostazioni di Google, e il Play Music. Andiamo ora a vedere la fotocamera. Camera classica di Android 4.4, che purtroppo è un po' povera di impostazioni, infatti non potremo salvare nella SD esterna, inserire la griglia o altro. Proviamo ad effettuare qualche scatto. Proviamo anche senza flash. Come vedete la velocità generale è abbastanza buona, e quindi andiamo a vedere il risultato. Le immagini sono nitide e i dettagli ben definiti, sia nelle foto senza che in quella con il flash, quindi fotocamera ottima. Bene, altre cose da segnalare non ce ne sono, e quindi passiamo alle considerazioni finali. Per quanto riguarda la gestione energetica, ho avuto qualche problema ad arrivare a fine giornata, soprattutto con un uso intenso. Con un uso medio, invece, con circa 3 ore e mezza a 4 di schermo, che comunque sono parecchie, wifi e servizi attivi solo quando necessario, ho raggiunto le 12-13 ore. Quindi gestione energetica, diciamo senza infamia e senza lode. Per quanto riguarda stabilità e fluidità, impeccabili. Io mi sono trovato benissimo, senza mai riscontrare impuntamenti o riavvii spontanei. Se a video vedete una leggera scattosità, è colpa dell'applicazione che sto usando per registrare, e vi assicuro non della ROM. Quindi il mio consiglio, soprattutto se siete interessati a una ROM KitKat decisamente personalizzabile, è di provarla. Perfetto, questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando ricordatevi di mettere un bel mi piace, condividerlo e far conoscere il canale. E per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. I link per scaricare la ROM e le Google Apps che sono da flashare a parte ve li lascio in descrizione. E quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!